L'esternalizzazione della contabilità, il costo, te lo ricordo, dell'esternalizzazione dipende dal numero di esternalizzazioni, chiaramente se uno ne esternalizza una costa una, se uno ne esternalizza dieci ne costa di più. L'altra cosa, devi sapere che non si muove niente dallo studio, perché il servizio prevede che noi veniamo a lavorare con user account tramite desktop per moto, quindi tramite un segnale video, non c'è scambio dati, ma dentro al tuo software, quindi se tu usi Zucchetti, se tu usi Ostra, se tu usi Bpoint, se tu usi Sistemi, se tu usi Team System, se tu usi Dialog, se tu usi Zucchetti, Ranocchi, insomma qualsiasi tipo di software tu utilizzerai, noi siamo in grado di gestirlo, quindi lavoriamo nel tuo ufficio come se ci fosse un atto dipendente, solo che questo costo è un costo variabile, non è un costo fisso. L'altra cosa importante è che i documenti sono condivisi in cloud, noi usiamo Google Drive, ma si potrebbe usare anche altre forme di cloud, quindi i documenti vengono messi dal tuo cliente o da te su una cartella condivisa tra noi e voi, noi apriamo il documento in remoto, lo registriamo, lo protocolliamo tramite Acrobat Radar, cioè praticamente andiamo dentro e scriviamo proprio sul PDF il numero del protocollo, la cartella poi viene, il file viene spostato in documenti registrati, quindi tu ti ritroverai. La contabilità aggiornata, i documenti protocollati e una mail di fine lavoro dove ti spieghiamo quello che abbiamo fatto, ti segnaliamo le ritenute, ti segnaliamo i beni ammortizzabili, ti segnaliamo l'intra, il blacklist, ti segnaliamo qualche scrittura particolare che abbiamo fatto e inoltre ti diciamo anche che a quel giorno l'utile provvisorio dell'azienda è questo e il costo del venduto dell'azienda a quel giorno è X. Quindi ti invito a contattarmi e a consultare il nostro servizio all'indirizzo internet che trovi qui sotto e non perdere l'occasione di aumentare i ricavi del tuo studio facendo passare i semplificati con redditi alti in ordinaria e approfittando dell'esternalizzazione quindi di aumentare i ricavi senza di aumentare i ricavi quindi di aumentare i margini perché hai un costo variabile. Bene, un caro saluto da Simone Brancozzi.